Buonasera a tutti, se prendiamo posto così diamo inizio a questo nostro incontro, convegno sulla, abbiamo isolato la macchina della Valle del Platani. Signor giudice, che cosa la spinda a venire oggi qui a intervenire all'interno di questo convegno, nonostante lei sia ormai passata al civile e non si occupi più di penale? Intanto sono venuto perché è un modo per onorare la memoria di Calogero Zucchetto, è un dovere che abbiamo quello di onorare la memoria delle persone che hanno servito questa terra e hanno servito anche noi con dei sacrifici estremi. Calogero Zucchetto poi è una figura che quando se ne onora la memoria si possono trarre un po' di insegnamenti, ci si può ricordare di un po' di cose, intanto ci si può ricordare che non bisogna essere persone particolarmente importanti e particolarmente famose o particolarmente potenti per poter fare veramente del male alla mafia. Zucchetto era un ragazzo, era un poliziotto, era un soldato semplice nella lotta alla mafia eppure è stato ucciso nello stesso periodo in cui la mafia uccideva il generale della chiesa, per cui evidentemente sia il generale della chiesa sia Calogero Zucchetto erano stati riusciti, erano stati capaci di mettere in crisi la mafia, tanto che l'hanno indotta a rispondere in maniera così violenta. Questo è un insegnamento che dobbiamo ricordarci sempre perché se tanti generali e tanti soldati semplici fanno il loro dovere come l'hanno fatto il generale della chiesa e Calogero Zucchetto la mafia non può sparare più. La situazione del vallone attuale è in una situazione, cioè ci troviamo in una situazione di stallo oppure ci sono dei miglioramenti? Cosa pensa lei? Nel vallone ci sono stati dei momenti molto critici, c'è stata la reazione delle forze dell'ordine, degli investigatori e della magistratura. Le associazioni criminali che operano in questo territorio hanno ricevuto dei colpi importanti, ne sono derivate cose sicuramente positive per il nostro territorio ma non si può dire che il problema si sia completamente risolto. Ci sono in atto segnali non sempre chiari che però ci dicono che certe realtà non sono completamente debellate e quindi ci vuole un altissimo controllo sociale per evitare che chi vuole riacquistare potere nei contesti sociali di questi nostri paesi non lo possa riacquistare. Non dimentichiamoci che un mafioso è forte anche per la debolezza degli altri o per l'indifferenza degli altri e ovviamente c'è bisogno di continuare le attività che gli investigatori sicuramente continuano a fare. Che cosa significa questa frequentazione? Ma non si può fare a meno in un contesto piccolo? Non è così. In un contesto piccolo non si può fare a meno di frequentare occasionalmente un mafioso. Non si può fare a meno di conoscere un mafioso. Forse non si può fare a meno di avere un parente mafioso ma si può benissimo fare a meno di fare affari con un mafioso. Siamo qui con il docente Marino che lavora presso l'università di Palermo, presso la facoltà di lettere e filosofia, Enna esatto, ma che è anche un grande storico che ha parlato del fenomeno mafioso e che oggi ci onora nella sua presenza all'interno di questo convegno sulla mafia della Valle del Platani che quindi affronterà da un punto di vista prettamente storico. È un convegno importante anche perché si svolge nel ricordo di Calogero Zucchetto un caduto di mafia e purtroppo è invalsa l'abitudine a fare riferimento ai grandi caduti di mafia ma sono tutti grandi solo perché hanno testimoniato con la loro vita e anche con la loro morte purtroppo la tragedia della nostra terra. Su terra ha l'onore di potersi intestare questa memoria. Lei tratterà della mafia del vallone ma sappiamo che essendo uno storico ci potrà fornire anche un repilogo di come la mafia non è più quella di una volta. C'è il c'era una volta della mafia e questa direi che è una delle realtà nelle quali più significativamente quel c'era una volta ha un significato che è il vallone mi ricorda Calogero Vizzini, Don Calò, il re della mafia ma non solo della mafia siciliana, il re delle mafie, date i suoi collegamenti profondi e accertati con la mafia americana, però bisogna anche dire che da quei tempi ad oggi i cambiamenti sono stati così rilevanti che probabilmente lo stesso Don Calò non riconoscerebbe più la mafia di questi tempi, sì non era una mafia buona contro la mafia cattiva di oggi perché la mafia è sempre stata cattiva, però metodi, culture, mentalità, rapporti sociali nei quali il fenomeno si insediava sono profondamente diversi dal passato al presente e bisogna tenerne conto. Quante strade abbiamo potuto fare, quanti ospedali, quante scuole, quanti esibili e dove sono state a finire? Dove sono andate a finire? Semplicemente abbiamo avuto una classe di gente, una classe di uniti, che non li ha voluti, neanche se li ha mangiati, non li hanno saputo di spendere. Beh, la mafia esiste anche per questo. Siamo qui con Michelangelo Landro, che è il presidente dell'Associazione Soter, il quale introdurrà a questo convegno la mafia nella Valle del Platani tra storie e progressi. Allora, questo convegno innanzitutto conclude il ciclo di iniziative intraprese questa settimana per la commemorazione di Lillo Zucchetto. Le cose che risaltano, non soltanto relativamente al convegno, ma a tutta l'organizzazione complessiva, è il forte impegno generazionale dei giovani nell'organizzazione di questo evento, che è una cosa importante perché dimostra che questa generazione appunto sceglie di stare da una parte piuttosto che dall'altra, in questo caso dalla parte giusta. In secondo luogo, venendo più nello specifico, è importante sottolineare che questo convegno ci serve per capire quali sono un po' le dinamiche del fenomeno mafioso col quale conviviamo noi, cioè non è un qualcosa di astratto generale, è relativo alla vita nostra di tutti i giorni. Quindi per capire come dobbiamo combatterlo, ovviamente dobbiamo capire come si muove. I meccanismi praticamente. Esattamente, e poi farne questa conoscenza indispensabile per reagire di conseguenza cercando di batterci con cognizione, con elementi sufficienti contro questo fenomeno. Come si esplica soprattutto nella nostra vita, come esso più o meno direttamente riesca a influire le nostre azioni quotidiane. Ed è per questo che oggi siamo qui, cioè il convegno, se per esempio la cena sociale aveva una sua logica che era quella di riportare il tema dell'antimafia in contesti semplici, conviviali e normali, questo incontro di oggi deve farci capire e comprendere come si esplica il fenomeno mafioso, perché così in questo modo ciascuno di noi deve impegnarsi nella propria quotidianità a superare questa pseudo-cultura mafiosa di accordi, raccomandazioni favoriche, sempre come diceva il professor Marino, sono espressioni di un potere più che di un atto delinquente in zero. Quindi l'incontro di oggi vuole essere proprio questo. Vuole essere un momento di riflessione per cercare di capire come la mafia si presenta qui, come noi possiamo combatterla qui. E concludendo, come diceva Peppino Impastato, che per me è il massimo, è un passaggio fondamentale che dobbiamo fare ora, prima che sia troppo tardi, prima di abituarci alle loro facce e prima di non accorgerci ci chiudi niente. Grazie. Siamo qui con Giuseppe Gimignisi che ha esposto diversi elaborati sulle vittime della mafia, in particolare ha parlato di vittime di serie B, che cosa intendeva dire con queste parole? Allora, intanto voglio dire una cosa, in Sicilia purtroppo si vive una situazione che ci sono familiari di vittime di serie B, di serie C, di serie Z, perché lo Stato non riconosce i familiari delle vittime, tutti allo stesso modo. Sono le vittime del terrorismo mafioso che hanno, da un punto di vista giuridico, più sostegno anche nei processi, anche in tutte le situazioni che noi affrontiamo, perché noi a volte affrontiamo processi, spesso affrontiamo processi a spese nostre e lo Stato non interviene solo quando ci sarà una sentenza civile e non è ammessibile che il boss viene pagato con i soldi dello Stato e io come familiare di vittime innocenti mi devo pagare gli avvocati. È una cosa che non dovrebbe succedere. Anche il signore qui accanto a lei è un familiare di vittime di mafia? Ecco, lo zio Vincenzo è un familiare di vittime di mafia che lui ha avuto giustizia e lui ancora aspetta giustizia e lo Stato deve dare risposta allo zio Vincenzo perché lo zio Vincenzo ha perso un figlio e lo Stato deve essere presente e deve dare risposte chiare e certe allo zio Vincenzo. Qual è la sua posizione in merito a questa situazione? A merito a lui, lui sa che sono stati gli assassini di mio figlio e di suo padre. Io invece non lo so, non so diciamo il perché hanno ucciso mio figlio, che mio figlio era un po' lezzotto, perché hanno ucciso anche la moglie, il bambino che portavano in grembo e quindi io sono in attesa ancora di 23 anni e 6 mesi, in attesa di verità e giustizia. Verità e giustizia è che praticamente lo Stato non si è impegnato fino in fondo a fare luce su questo tripolo omicidio. Omicidio di Stato, il mio è, perché mio figlio faceva parte dello Stato, solamente perché mio figlio non si è voluto piegare alle mele marce quando c'è stato il fallito attentato a Falcone, alla Davora, che mio figlio praticamente ha visto quel borsone, ha guardato, si è reso conto subito che cosa si trattava e ha dato subito l'allarme, evidentemente da allora mio figlio non si è voluto piegare perché mio figlio ha giurato fedeltà allo Stato. E lo Stato in qualche modo deve prendersi cura quindi anche di queste vittime che non ci sono più ma che meritano quindi giustizia? Questa giustizia è praticamente, ma ancora nel cesto come dico io ci sono delle mele marce, quanto dureranno queste mele marce per non incontaminare altre mele? Questo è il guai, lo Stato deve fare una selezione, una selezione abbastanza bene, una selezione che noi dobbiamo vivere libere, non sotto la dittatura come viviamo adesso perché vede il 29 ottobre sulla trattativa mafia politica c'è stata una porcata, dico una porcata, una porcata che praticamente coloro quale che è stato dopo del 92 si possono costruire parte civile, prima del 92 parte civile non ci possiamo costruire, allora per quale motivo c'è stata questa riapertura a questo processo? Per quale motivo hanno consentito di interrogare a queste pezze grosse che c'erano colluse con la mafia? Hai parlato anche di vittime di serie Z? Allora le vittime di serie Z sono purtroppo i sindacalisti uccisi prima dal 61 come Accursio Miraglia, come Guarino, come Placido Rizzotto, quelli sono vittime di serie Z, non sono riconosciuti vittime innocenti di mafia, lo Stato deve subito correggere questa legge perché siamo tutti figli dello stesso Dio, non siamo figli di un Dio minore. Quindi bisogna non dimenticare pure questi familiari che sono stati di un Dio minore, aspettano ancora giustizia, c'è chi l'ha avuto e c'è chi non l'ha avuto, quindi ricordiamo anche chi non ha avuto giustizia.